ciao creatura io sono Eka di Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di come avrei letto dal titolo parleremo dell'isola dei famosi e già innanzitutto perché Eka di guardi l'isola dei famosi che è un programma trash beh i programmi trash fanno non penserà nulla forse ecco perché ci piassono tanto i programmi trash e allora principalmente lo so che sembra una motivazione forse stupida ma questa è quindi non mi interessa guardare la puntata di lunedì che è praticamente tutto il programma non mi interessa infatti non lo guardo mai a me piace guardare il daytime che sarebbero le giornate anche se poi non è che si vede effettivamente tutta la giornata è un montaggio che fanno quelli del programma ecco i montatori che penso sia più di una persona comunque sono pezzi di varie pezzi della giornata in teoria della stessa dove ti fanno vedere magari le cose più interessanti che a volte non sono neanche le più interessanti perché spesso dormono fanno insomma cose normali ecco e perché i suoni a me è sempre piaciuto anche prima di sapere cos'è l'SMR con i suoni mi sono sempre piaciuti e lo trovo estremamente rilassante come reality perché a differenza di persone che stanno in casa tutto il giorno io credo con questo intanto lì sono in mezzo alla natura e si sente questo suono dell'acqua un po' del mare dell'oceano che è veramente fotonico stupendo e l'altro sintona come sono vestita oggi che c'è il rosso e il marrone che è un po' il mio rossetto oggi io sono molto cottagecore bello e anche bello il suono della stoffa comunque stavo dicendo appunto mi piace soprattutto mi piacciono i suoni che ci sono in questo reality al di là delle voci però a volte di notte o nel pomeriggio che fanno tipo qualcuno vuole fare un suonnellino nelle lì che sono tutti straiati che non hanno voglia di andare a pescare andare a raccogliere i cocchi o che non hanno voglia di raccogliere la legna eccetera eccetera fanno il suonnellino e allora c'è chi bisbiglia quindi ci sono questi suoni del mare che è sempre un suono costantemente presente poi c'è ci sono loro che bisbigliano c'è la quotidianità in un'isola quindi la quotidianità in un contesto totalmente diverso da quello che è la nostra quotidianità quindi è bellissimo per me guardare queste cose poi c'è il cocco che è uno dei protagonisti dell'isola quindi come faccio a non guardare una cosa del genere non mi interessa la puntata perché non me ne frega niente di chi resta a quest'ora e a me piace proprio il day time proprio rilassante di solito cerco anche di non abisolarmi guardandolo perché c'è anche il rischio esatto tutto bene perché lo guardo tipo a pranzo nella pausa del pranzo diciamo e non posso addormentarmi se no è un casino e quindi per quello dico cerco di non addormentare quest'isola qua è stato un disastro cerco di raccontartela un po' per chi non l'ha vista per chi l'ha vista quale e così magari è un video cicciato quindi c'è la chiacchierata dove viene raccontato qualcosa ci sono anche i gossip perché ne sono succesi di ogni e ho anche delle mie teorie di cosa che forse così forse colamo adesso te ne andrò a parlare allora diciamo che quest'anno hanno deciso di fare una spiaggia un'isola con si chiama l'isola dei famosi quindi giustamente persone famose che poi alla fine ogni volta io devo stare a guardare su google ma chi è quello? ma cosa fa quello? non ne conosco mezzo l'unico che conoscevo era Joe Bastianich a parte che io non sono neanche tanto così brava con i vip quindi è anche colpa mia e poi c'è Edoardo Stoppa non ci che conoscevo poi altre donne le conoscevo però viste così no? anche perché c'è un'attrice una showgirl sono personaggi così che magari le donne cambiano spesso colore di capelli o alcune vanno anche a rifarsi a ritoccarsi c'è della gente senza rucchi che ha tutta la faccia tirata così tipo donne e gatto come le chiamo io perché sono tutte donne e gatto si rifanno e hanno tutti la stessa faccia poi e quindi magari a volte sono anche difficili da riconoscere mettiamola così la uso come scusa e vabbè comunque per la maggior parte anche visto il grande fratello vip mettevano dentro gente che poi tanto vip non lo era ecco però vabbè giustamente i veri vip hanno altro di meglio da fare ecco comunque Giubastiani ci mi fa morire da ridere non sto lì ad analizzare tutti i concorrenti però lui è un tipo molto concreto visto perché non dava amicizia a tutti subito ha studiato prima la situazione e poi pian piano si sta aprendo solo con le persone che pensa di potersi vedere perché poi non se ne è mai certi ecco e quindi è simpatico poi lui gli hanno dato subito dopo un po' però diciamo abbastanza subito dal mio punto di vista una chitarra acustica e lui ogni tanto lo vedi lì da solo che suona e canta oppure anche la sera è bello perché riesce a fare intrattenimento sia alle persone che guardano a casa ma anche a loro perché suona e canta lì e non c'è niente altro da fare e quindi intratiene anche gli abitanti dell'isola è troppo top e Edoardo stoppa e fa tutto lui praticamente ha acceso il fuoco nonostante ci fosse e non avessero nulla tutti si provavano e lui è tipo un po' se se lo lasciassero da solo cambierebbe tutta la vita sa far tutto e vabbè hanno fatto quest'isola e poi hanno fatto un'altra isola con non famosi e quindi hanno messo dentro non lo so il c'era sto Beppe napoletano con una pescheria o un ristorante che secondo me non è poi così non famoso insomma sarà sicuramente avrà un ristorante famoso a Napoli non lo so essendo di Napoli non lo so dirtelo e poi c'era c'è un altro Edoardo che è un po' strano tipo un po' strano che lo faccia il cuoco anche lui lo so e poi chi c'era? di un famoso o altra gente non mi ricordo comunque hanno fatto un po' tipo qualche giorno una settimana così e dopo hanno raggruppato tutti quindi trovi alla fine non è come fuori nel mondo reale dove i VIP sono visti un po' così e gli altri sono tutti gente comune lì sono tutti gente comune alla fine sì sono VIP però alla fine nell'isola tra virgolette in teoria sono tutti uguali dopo non è vero però perché ho visto delle cose un po' allora c'è adesso non ho messo dentro da poco una certa rosanna bolognese ma che accento fantastico poi non sta mai zitta e bastiani si dice si è simpatica però si stessi zitta ogni tanto ci ha detto e è simpaticissima poi lei non supporta le ingiustizie e quindi te le dice proprio in faccia le cose quindi c'è stato un tizio non mi ricordo sonni mi ricordo che si chiamasse e che andava da tutti a fare tutto la faccia carina e poi alle spalle parlava male e lei l'ha spottanato subito cioè io tu sei top infatti lei ha fatto delle voti per essere eliminata e la gente a casa l'ha salvata perché piace perché è proprio genuina come donna e poi c'è una che ha una contessa che quando è entrata secondo me nessuno gli avrebbe dato un centesimo e invece è ancora lì lei era ingrassata 10 chili prima di entrare all'isola pensando di fare tipo fondo ma si tanto dopo li riperdo erano dimagriti tutti tranne lei e è rimasta fino a qualche giorno fa tipo ancora uguale invece adesso io la vedo molto molto dimagrita anche quello per quanto possa essere finto un reality perché comunque si sei in un'isola tra virgolette deserta però c'hai sempre la videocamera qua in faccia quindi vabbè quanto una persona può essere spontanea con una videocamera sempre puntata in faccia un conto è se facciamo noi una ripresa a casa ma un conto è stare in queste situazioni sempre riprese poi magari ti abituino ok ci può stare però insomma sai sempre c'è sai che c'è uno che ti sta riprendendo quindi è sempre un po' e poi anche non sappiamo che contratto abbiano firmato se hanno accordi insomma quelle cose di no per quanto sia un reality quindi può essere comunque finto l'avvenzione però comunque il cambiamento del corpo comunque avviene si vede che comunque si mangiano mangiano decisamente meno e perché comunque nonostante tutto questo questi retroscena dimagriscono ecco e quindi almeno quello è reale a me comunque è iniziato con alcuni concorrenti poi ce ne sono aggiunti altri poi c'è anche chi è stato si è sentito male è stato andato a casa tipo una ragazza mi ricordo e per degli accertamenti l'hanno ritirata non si è ritirata lei ma hanno preferito loro farla tornare in Italia poi qualcuno ha contratto il covid non pensavo si facessero ancora i tamponi e quindi sani tra l'altro cioè bolli non ho ben capito perché hanno trovato il covid ma queste persone non avevano nulla quindi perché gli ha fatto il tampone non ho capito e questo mi ha fatto un po' strano e li hanno quindi fatti tenuti lì in isolamento poi sono tornati e poi hanno iniziato a succedere delle cose un po' che mi hanno fatto dire ma cosa sta succedendo allora entra questo attore nell'isola che poi dai suoi racconti si scopre che lui aveva fatto i casting aveva fatto gli hanno fatto fare le visite psicologiche psichiatriche per entrare io non sapevo ci fosse tutta questa selezione ecco ci sta comunque però a detta sua c'era qualcuno che non voleva farlo entrare e alla fine lui gli hanno anche fatto dei test dei tamponi l'ha raccontato su dei tiktok sui suoi social poi e gli hanno fatto dei tamponi e risultavano positivi e invece lui se li ha fatti fare davanti a se stesso firmandoli ed erano tutti negativi quindi a detta sua insomma c'era qualcuno che non voleva farlo entrare ma allora io dico se non vogliono farlo entrare non farlo proprio iscrivere cioè no trova una scusa pure dire no non ti vogliamo non ha senso questa cosa fare tutti questi magheggi per non farlo entrare e non sto dicendo che lui è bugiardo sto dicendo che le persone sono stupide cioè non vuoi far entrare qualcuno non vuoi far entrare non vuoi che lo fai entrare però fai finta che cioè se devi fare le robe farle fatte bene oppure sei onesto di non ti vogliamo all'isola cioè avrebbe avuto più senso questa cosa comunque vabbè allora niente alla fine lui entra e si crea subito una canna da pesca era super attivo come persona molto simpatica e iniziato subito a pescare pescava un sacco di pesci anche giustamente il pesci vendolo che tra l'altro un pesci vendolo non è un pescatore però lui era molto bravo anche lui pescava e quindi insieme a Joe insieme a Joe ho fatto sì insieme a Joe cucinano fanno e quando ci sono tutte queste persone qua si danno da fare e iniziano a mangiare con poco riuscivano a fare tanto avevano il riso avevano il fuoco perché Edoardo Stop aveva iniziato già a trarsi da fare e aveva creato il fuoco io lo chiamo il dio del fuoco perché ha fatto tre quattro volte il fuoco dal niente con un legnetto un laggio di scarpe e un po' di paglia ricavata da una noce di cocco lui ha creato un arco un attrezzo per fare il fuoco è diventato mega esperto e nessun altro era riuscito a creare il fuoco solo lui quindi cioè per me lui è il dio del fuoco e insomma si era avviata bene questa isola poi ovviamente iniziano i litigi iniziano i litigi però non ci fanno vedere non ci fanno vedere quello che succede realmente a un certo punto iniziano a far vedere in tv questo montaggio di immagini che effettivamente fanno apparire questo Francesco un idiota ecco un po' un sempliciotto come si può dire no? però si ci può anche stare ci poteva anche cioè io da quello che vedo io ai daytime a quello che poi vedo in puntata è sempre diverso perché un conto è quando fanno un montaggio di video di scene senza un contesto riescono a farti sembrare chi un genio chi un idiota ma nel daytime anche lì è un montaggio però vedi la scena dall'inizio alla fine e e ti fai un'idea tua insomma vedi i vari comportamenti le cose che vengono dette chi dice una cosa e poi ne fa un'altra o chi dà ordine agli altri poi non fa un cacchio chi giudica eccetera eccetera e lui invece mi è sempre sembrato una persona che si è dato sempre da fare che sapeva fare le cose perché comunque lui sapeva anche non pescare che lì è fondamentale se non mangi a meno che tu non sia vegetariano o vegano e allora devi cibarti solo di cocchi e frutti hanno iniziato anche a raccogliere dei cactus ho visto che fanno arrostire e li mangiano e i tempi addietro raccoglievano le telline invece non ho più visto raccogliere le telline raccogliono i granchi ogni tanto e anche i ricci di mare che non mi danno buoni non mi sembrano buoni proprio quando si ha fame va bene tutto tanti tanti cocchi vedo e tanto da farti venire voglia di mangiare il cocco e il riso in bianco ecco da quanto mi mangiano e infatti mio papà mi aveva chiesto un risotto la scorsa settimana perché fa guardo sempre lì sulla mia voglia di riso e vabbè al di là di queste cose mi fanno ridere e quindi niente dopo sparisce questo Francesco non si vede più e appaiono su tiktok io l'ho visto lì dei video di questo Francesco video fatti polisemente così con il proprio smartphone dove lui è tutto preoccupato agitato dicendo sono in mi sento in pericolo sono preoccupato per la mia mia salute diciamo vi monteranno vi faranno credere chissà cosa di me che io ho fatto e insomma era preoccupato per la sua sicurezza ho fatto vedere che lo tenevano tipo come in ostaggio diciamo tra mille virgolette dentro al resort dove questi VIP stanno prima di andare all'isola o così si sentono male li fanno andare lì per fare degli aggertamenti con i medici così e ha fatto vedere che fuori dalla porta c'era un uomo che lo stava tipo vigilando che controllava se lui usciva e se andava in bagno ovunque andava qualcuno lo seguiva deve essere brutto quello lui si è sentito davvero cioè lo vedevi che era davvero preoccupato di non tornare a casa perché era stato minacciato in poche parole lui aveva avuto una lide con un altro VIP che lui è un attore con Arthur che adesso non so dire di che lavoro faccia modello e aveva avuto questa lide per delle cavolate perché litigano sempre per delle cavolate questo Arthur cioè fa la bella faccia davanti e poi ti sparla vabbè ma lì è tutto amplificato perché non c'è nulla null'altro a cui pensare ecco e quindi ti attacchi per delle cavolate e invece nella vita poi siamo tutti schiacciati in questa mini isola e devono convivere tutti per forza e invece nella vita reale se c'è qualcuno che ti parla male domandi a quel paese poi ciao già nel senso ognuno si fa la propria vita e ognuno per la propria strada invece lì insomma è un reality quindi poi devono anche creare queste situazioni che secondo me mettono anche di proposito dei personaggi un po' chi ha ruolo di fare il buono chi ha ruolo di fare quello un po' il cattivo della situazione per perché se tutti si vogliono sempre bene diventa noioso ecco ci vogliono anche le litigate litigate e e quindi niente avevano litigato e e dopo la litigata era sfociata in modo ecco che chi guarda l'isola da più anni sa che Antonella e Lia e un'altra avevano litigato che erano nell'isola e si sono prese proprio a botte si sono tirate i capelli quindi dopo aver visto quella scena cioè tutti dicevano ma vediamo questa litigata perché appunto lui chiedeva fa se sono davvero se è successo davvero una cosa così grave mostratela e poi sarà il pubblico a decidere se mandarmi in illumination oppure se va bene così e infatti anch'io ho detto no io devo voglio vederla tutti volevano vederla questa questa scena questa litigata perché quest'anno l'ho scelto Vladimir Luxuria e che aveva detto in puntata perché poi io non guardo la puntata ma guardo gli spezzettoni che fanno del daytime ogni tanto fanno vedere i pezzi anche delle puntate e per non ripetere sempre le stesse scene del daytime e tipo nel weekend fanno rivedere tutto cioè tutte le repliche le robe e e praticamente aveva detto che questa scena questa litigata era troppo forte erano immagini troppo forti e loro non se la sentivano di mostrarle ma allora andava bene vedere l'Antonio e l'Elia che si tirava per i capelli con quell'altra che anche quello è stato brutto da vedere onestamente cosa ha già creato un hype pazzesco dicendo così no e tutti volevano vederlo e poi questo Francesco ha fatto dei video dove raccontava che i video del programma gli avevano offerto prima 18.000 euro poi 24.000 euro poi 30.000 euro una cosa del genere per stare zitto non dire niente e tornarsi in Italia dicendo che o non stava bene o gli mancava a casa o una cosa del genere e lui ha detto no voi non comprate ognuno silenzio io non sono in vendita non so cosa avrà detto comunque non non ha accettato infatti prima gli hanno offerto 18.000 euro poi non ha accettato poi 24.000 euro non ha accettato poi alla fine 30.000 euro allora io mi chiedo se lui è davvero in se è davvero così grave questa scena della litigata e lui è in torto perché giustamente firmano un contratto dove ci sono delle clausole che dicono che non si può bestemmiare non si può fare questo quell'altro buttatelo fuori e basta perché dovete comprare il suo silenzio questo è stato strano però mi ha fatto anche riflettere sul fatto che lui è un attore lì è un programma reale che dicono che sono tutti vinti e loro ho pensato non è che questa è una situazione creata dal programma per far parlare di loro perché avevano detto che gli ascolti stavano calando perché non piaceva molto il come conduceva perché cioè siamo passati da Simona Ventura a Vladimir Luxuria che cacchio è successo nel frattempo non c'è nel senso a me faceva mi piaceva tanto la Simona Ventura come presentatrice aveva lanciato anche dei tormentoni di frasi da dire no? e invece Vladimir non la vedo proprio come una presentatrice infatti vabbè la puntata magari se fosse stata più coinvolgente l'avrei anche vista è che proprio non era non non è lei non è portata forse per presentare l'isola ecco magari è portata per presentare altri programmi non faceva ridere erano un po' noiosa cioè lei mi piace come persona ma non l'ho trovata proprio adatta a all'isola al format dell'isola ecco e infatti è andato tutto in cacciara poi perché questo Francesco ha avuto tutto il sacco ecco all'inizio pensavo fosse stato fatto tutto finto per creare appunto parlare dell'isola non creare lo scandalo tra virgolette e far parlare di sé invece poi dentro di me ho detto allora se succede questo allora vuol dire che è vero se succede questo allora vuol dire che è finto allora ho pensato magari se lo fanno tornare dentro l'isola e dopo magari si chiariscono e tutto allora è finto invece lo mandano proprio a casa e poi non ne parlano più perché adesso lui aveva detto che è illegale avevano in mano tutto eccetera e insabbiano tipo fanno finta no insabbiano la storia allora potrebbe essere vero ed è successo così a una certa Francesco è sparito loro hanno iniziato a dire che lui prima hanno dato una versione dicendo che gli mancava a casa poi non è stato a dire che si sentiva male insomma almeno usate la stessa versione ne si sbagliate quindi vabbè è già lì però anche così poteva essere finito allora ma cosa è successo lui in questi video che mandava caricava questi video poi dopo i suoi social venivano bombardati e le volevano diciamo oscurare invece per fortuna la casa i suoi figli e altre persone hanno fatto in modo che lui potesse dire la sua anche se non era in Italia quindi qualcuno che gli ha gestito i social gli ha tenuti vivi insomma perché luttati da sua cercavano di bloccare tutti i social le persone condividendo questi video hanno contribuito a divulgare la sua verità ecco diciamo così anche se la verità è data però noi essendo lì non possiamo saperla totalmente e anche perché vabbè lui ha detto che eh ma sì c'è stata questa litigata però allora cosa dovremmo dire di Beppe che Beppe era appunto il pescatore e lui mi ha minacciato col macete si vede che hanno litigato un po' tutti tra di loro non lo so effettivamente io pensavo ma allora per una litigata del cacchio buttano fuori questo Francesco questo Beppe che ha minacciato con un macete che è molto più grave e è ancora lì nell'isola che si fa gli affari suoi magicamente questo Beppe sente questo sente la necessità dal che stava tutto bene sotto a posto gli manca troppo la moglie e se ne va ma non è la scusa che gli avevano chiesto di dire a Francesco non è che adesso con i legali sono andate fuori delle cose e hanno buttato fuori sto tra virgolette per farla pulita con la scusa che gli manca la moglie e i figli hanno fatto fuori tra virgolette anche sto Beppe perché di sto Beppe non se ne è più sentito parlare e così liquidato con che gli mancava la famiglia casualmente la stessa scusa cioè poteva dire una scusa diversa tipo che a mezzanotte gli scadevano yogurt non so così così più credibile è successa sta cosa e che mi ha fatto un po' riflettere ecco dicendo beh ma quindi anche nelle altre edizioni chissà quanti sono usciti perché volevano uscire perché sentivano la mancanza e quanti non sono sono usciti perché gli hanno detto ci diamo tutto soldi così esci cioè capito poi e lì insomma c'era questa cosa diciamo lasciata così in sospeso erano sparite delle persone e non si sapeva dopo so altre cose dopo finiamo il discorso poi c'è sto personagione che dovrebbe essere credo un VIP se non sbaglio un certo Pietro che è un tipo di quei classici ragazzi bellocci che sono belli ma poi dopo non sanno fare neanche la lasagna cioè per dirti no e quindi totalmente così lascia tempo che trova e c'è sto Pietro che lui dice di fare il poeta dopo quando gli dicevano gli chiedevano di comporre qualcosa diceva delle frasi che anche il mio gatto potrebbe scrivere anche cioè niente di che insomma diciamo che lui secondo me giocava tanto sul fatto che se dico di fare il poeta poi dopo posso restare a non fare niente tutto il giorno perché lui nella sua vita non lavora e quindi non voleva lavorare neanche sull'isola che poi quando è uscito perché una certa ha deciso così di uscire anche lui va molto strano ha detto eh ma io sono stato pagato per fare il mio personaggio ha detto le cose tipo così quindi sto finto anche quello e con Vladimir che lo sfotteva che faceva finta di non capire quello che lui stesse dicendo lui parlava di un percorso io ho fatto il mio percorso e adesso l'ho finito insomma in poche parole doveva essere tipo il personaggio disturbante ma non doveva dirlo e non doveva dirlo quindi Vladimir cercava un po' di fare tipo la finta tonta e e vabbè e lui non capisce vabbè lasciam perdere un po' stupidotto lui e quindi non sappiamo se lui sia davvero così o interpretava un personaggio antagonista diciamo comunque lo faceva molto bene perché stava abbastanza antipatico a tutti voleva fare il ragazzo della generazione in cui non c'ha voglia di fare niente non vuole lavorare tutto gli è dovuto e ci sono delle persone così nel mondo i parassiti doveva fare il parassito della situazione che lui è sempre la vittima e sembrava che solo lui stesse male per i moschitos che solo lui fosse stanco che solo lui fosse fastidio non so qualsiasi cosa gli altri avevano la stessa problematica pensare donne che avevano anche il ciclo in quei giorni per dire però nonostante quello andavano a raccogliere la legna andavano a pescare andavano ad aprire i cocchi eccetera eccetera a cercare i cocchi quindi stella ecco ma diceva tipo delle frasi così che diceva vabbè ma sarà finta sta cosa non può essere lui così cioè è proprio stupido tipo appunto che lui non che dovevano farlo gli altri che lui avrebbe fatto quelle cose se avesse avuto voglia non hai niente da fare è solo quello fallo manco quello non vuoi a fare e quindi niente quando è uscito ho visto un pezzo di filmato dove appunto diceva queste cose quindi mi faceva pensare che fosse anche lì tutto finto si vede che hanno pensato che come personaggio antagonista non andasse più bene e quindi non l'ho fatto fuori e ci può anche stare perché è intrattenimento quindi ci può stare che qualcosa sia pilotato però fallo in modo furbo non così esplicito e poi 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 finalmente esce sto filmato dei due che litigano di Francesco e Arthur della litigata alla fine sì è stata una brutta litigata perché Arthur tipo provocava Francesco Francesco non è riuscito tipo a ignorare le provocazioni e lì che ha sbagliato però Arthur comunque ha messo la mano cioè se stiamo litigando e tu mi metti la mano così attaccata al naso e mi dici niente parla con la mano parla con la mano cioè quando si litiga e tu cioè ci vuole una distanza no di perché tu stai diciamo violando il mio spazio vitale stiamo litigando è come mettere la mano addosso anche se magari non lo toccava ma secondo me gli toccava comunque il naso quella cosa lo ha fatto ancora più infervorare quindi lui pensava di fare così facendo il furbo di non passare dalla parte del torto ma secondo me è stato come se gli avesse dato uno schiaffo dal mio punto di vista perché ok si non mi è toccato però mi ha messo la mano così in faccia così ci faceva così si parla la mano allora lui diceva levami la mano dalla faccia levami la mano dalla faccia e lui l'ha tenuta allora lui gli ha spostato la mano e e l'altro lo ha spinto e e poi Francesco mi ha fatto morire da dire ha preso un bastone adesso si ammazzano tipo ma poi ha preso solo le mani un bastone tipo come per difendersi ma dopo non ha fatto niente alla fine quindi boh a me è sembrato peggio l'Antonella Elia e l'altra che si tira si sono proprio si è visto anni fa si sono proprio tirate i capelli con cattiveria violenza alla fine loro c'è stato una mano in faccia così uno spintone e il gesto solo di prendere un bastone per difendersi che poi dopo l'onecchio l'ho alzato non ce l'aveva solo in mano quindi a questo punto allora secondo me visto la scena dovevano buttare fuori entrambi butti fuori Francesco butti fuori e Artur perché butti fuori solo Francesco e Artur no Artur può restare dentro a provocare a fare il bulletto cioè anche lì non volevano mostrarlo perché se no Artur avrebbe fatto brutta figura è così non lo so allora tutti o nessuno non che butti fuori solo Tizio e qui il provocatore non lo butti fuori che comunque ha spinto lui quindi spingere va bene non ho capito e quindi quindi secondo me se avessero buttato fuori tutti e due facendo vedere il filmato questi due hanno litigato è successo questo è stato molto brutto come vi dico riteniamo che entrambi debbano essere eliminati allora ok ma non che fai l'ingiustizia di buttarne fuori solo uno e l'altro niente perché l'altro è il veloce della situazione quindi bisogna tenerlo dentro non fa un cacchio dalla mattina alla sera non pesca non raccoglie non fa un cacchio lo teniamo l'altro invece è come è entrato ha iniziato a pescare pesci come se non ci fosse domani lo eliminiamo no buttate fuori tutti e basta e e quindi niente che poi se fosse stato davvero intorto sto Francesco non gli avrebbero offerto i soldi per stare zitto perché avrebbero avuto tutte le carte in regola per eliminarlo e basta no e lui non poteva dire nulla e lui aveva detto appunto mi faranno apparire ciò che non sono e eccetera eccetera insomma alla fine sono successe le cose che ha detto però ancora io ho detto dentro di me ma sì ok ma magari sono d'accordo tra di loro perché è un reality non è tutto finito invece poi ho letto di recente che chiuderanno il programma il 28 maggio quindi se chiudono il programma finisce tutto vuol dire che è vero che ci sono dei legali che c'è una causa di mezzo e quindi purtroppo non era in trattenimento ma era tutto vero è grave questo comunque perché lui si è sentito minacciato e tutto perché l'hanno minacciato a detta sua e anche tutti i video lui ha tutte le prove quindi è ogni persona che mi ha mi ha detto lui aveva il telefono quindi ha registrato e insomma sono successe cose ma un'altra cosa che è successa che però sarebbe stata divertente se avessero proseguito ecco che qualcuno aveva rubato del cibo tra il cibo e quando c'era ancora Pietro e qualcuno aveva rubato avevano fatto intendere che qualcuno aveva rubato del cibo da al ai cameraman e hanno rubato del riso un pezzetto di carne e aveva rubato questo cibo e poi lo ha distribuito ad alcune persone alcuni hanno accettato altri no un po' il diavolo tentatore dell'isola e due mi pare tre hanno confessato però dicendo io ho mangiato però non sono stato io rubare e quindi lì era rimasto il segreto dell'isola perché poi volevano a tutti i costi che questa persona confessasse invece poi non hanno non ha mai confessato quindi non si sa chi è stato a rubare e secondo me Pietro che era non ha detto lui ha detto no io non ho rubato ho solo mangiato anche un'altra ragazza Cati ha che credo sia una modella ha detto ha detto io ho mangiato non ho rubato poi la contessa ha detto a me è stato offerto ma non l'ho mangiato e l'hanno punita lo stesso cioè quel poveretto è stato appunto la prossima volta mangia cioè se ti devono punire perché lei non ha detto di no cioè se ti offrono le cose vieni punita anche colpa ne ha anche lì hanno tolto il fuoco vabbè tanto dopo vedo ardo sto pal rifatto quindi stica però insomma è rimasto il mistero resterà per sempre perché se lo chiudono poi nessuno mai più lo dirà però se loro lo sanno perché hanno le videocamere 24 ore su 24 accese che faccio su uscire sto video è che ormai se chiudono il programma non sapremo mai che è stato la trucola e si vociferava che fosse uno di quelli che puntavano il dito sugli altri dicono vabbè e niente quindi vedremo allora la mia conferma sarà questa se chiudono davvero il programma allora è tutto vero se invece il programma resta e passa in sordina tutta sta situazione allora forse era tutto finto per far parlare di sé la la postulia poi non so tu lo guardi l'isola cosa ne pensi? pensavo che fosse un argomento rilassante perché appunto sono cose di cui non frega niente a nessuno che al fine non è molto nessuno sono cose così ridicate per vedere cavolate però è gossip perché ci sono i VIP quindi adesso io con cosa mi rilasso che Lisa Grant ASMR ha chiuso il canale me lo volete dire? sì ho visto che carica dei video con un altro ma io mi sono perso adesso lei ha chiuso il canale io mi sono perso tutti i video quelli vecchi che mi riascoltavo come faccio adesso che quando mi sveglio le 3 del mattino io non riesco più a riadumentarmi me lo dite voi vabbè questo video si conclude così con questa mente della finale spero che tu sia riuscita ad attormentarti grazie per aver visto questo video grazie per il like grazie per esserti iscritta e per avermi commentato o anche se non l'hai fatto grazie per aver visto il video ti auguro come sempre buonanotte buon relax ciao creatura